Va bene dai, cosa? Non lo senti? Senti? Chi? Ascolta. La pioggia? Il silenzio. Mi fa piangere quando parlavamo per ore delle spese condominali. Siamo rimaste, io e te, il silenzio. Abbiamo allontanato tutti. Beh, abbiamo scelto insieme però. I miei amici, i tuoi amici, hanno tutti i bambini. A te dà fastidio. Ti danno fastidio le urla, no? Ma cosa c'entrano i bambini? Sto parlando di me e te. Non facciamo più niente insieme. La vacanza. Un cinema. Torniamo schiena contro schiena. Niente carezze. Un complimento. No, questo non è vero. Che cosa porto sotto? Ti aiuto. Non sono pantaloni. Siamo andate a fare la spesa insieme. Siamo stati di fianco in macchina. Sono stata davanti a te per cinque rampe di scale. Di che colore? Smettila. Io preparo le mie cose e me ne vado. Ma dove vai? Vai di domenica. Se devi andare vai di lunedì. Perché la gente lavora. Perché la gente, lo sai, no? Parla. Lo vedi questo bicchiere di cristallo? Siamo noi due. Si è rotto. Non sei giusta più. Tu sei sempre la solita esagerata. Con tutte le cose che ci sono in cucina, cosa prendi? Il bicchiere di cristallo. Prendiamo, non so, una padella. Prendi il manico. L'attacchi. Con la colla. E sia giusta.